Ai ragazzi augurano buona festa ma con la testa e per evitare che vadano oltre i limiti come avvenuto a volte in passato, dettano regole che diventano ordinanze urgenti. È ciò che ha deciso il sindaco di Chiavenna, Luca della Bitta, in vista dei festeggiamenti dei coscritti diciottenni che si terranno nel fine settimana. L'ordinanza arriva anche a seguito dell'invito del prefetto Salvatore Pasquariello e delle indicazioni emerse dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è riunito oggi per la seconda volta in pochi giorni proprio per affrontare il tema dei coscritti coinvolgendo nella prima fase i sindaci sia del tiranese che della Val Chiavenna e le istituzioni scolastiche del territorio. Su Chiavenna, che è il comune dove in passato si sono verificate le maggiori problematiche, convergono ogni anno i coscritti di tutti i comuni della vallata e per questo si è deciso di emanare un'ordinanza urgente, valida da domani a domenica. Nel dettaglio si vietano il disturbo alla quiete pubblica, qualsiasi forma di getto su persone o cose, si legge nell'ordinanza, di farina, farinacei o sostanze che danneggino o imbrattino il suolo pubblico e, infine, qualsiasi accensione di fuochi, fuochi d'artificio e simili. Infine, per le giornate di domani e sabato, la stessa ordinanza vieta qualunque forma di assembramento nei pressi delle scuole superiori Leonardo Da Vinci e Crotto Caurga, negli orari di entrata e di uscita degli studenti. Il sindaco di Chiavenna, insieme ai comandanti della polizia locale e della compagnia carabiniere di Chiavenna, ha incontrato questa mattina gli studenti delle quinte superiori della città per rimarcare l'invito a un comportamento corretto. Insieme agli altri sindaci e alle istituzioni si è scelto di dare fiducia ai nostri giovani, convinti che sempre sia un investimento nel futuro, ha commentato il sindaco della Bitta. Insieme alla fiducia servono però responsabilità e rispetto delle regole di educazione e convivenza civile.